Un'altra notte di perquisizioni a tappeto a Castelvetrano, con l'obiettivo di stanare i fedelissimi del boss Matteo Messina Denaro e scovare qualche traccia del latitante. A pochi mesi di distanza dall'ultima perquisizione ne è scattata un'altra ancora più massiccia. In azione più di 200 carabinieri del ROS su ordine della procura della Repubblica di Palermo. A seguito di questo ennesimo rastrellamento è scattato un arresto e 25 soggetti sono stati iscritti nel registro degli indagati. Passati al setaccio negozi, uffici, abitazioni private, aree periferiche e case rurali. Le sirene sono suonate nottetempo non solo a Castelvetrano ma anche a Palermo, Mazzara del Vallo, Custonaci e Campobello di Mazzara, storiche roccaforti del padrino latirante. Il provvedimento di fermo è stato eseguito nei confronti di Matteo Tamburello, che secondo gli investigatori era il nuovo reggente del mandamento di Mazzara del Vallo, succeduto dopo la morte del padre Salvatore. Il blitz non serviva per la cattura del boss, ma per stroncare ulteriormente la sua presunta rete di fiancheggatori sul territorio e per trovare tracce sensibili. Sono stati sequestrati infatti vari computer e telefonini che saranno analizzati dagli esperti messi in campo dalla procura palermitana. Nel corso del blitz poi, nelle ore successive, sono state arrestate anche altre due persone. Si tratta di Giovanni Como, fratello di Gaspere, il cognato di Mestina Denaro, in carcere da tempo, e di Diego Vassallo, titolare di supermercati a Mazzara del Vallo. Detenevano illegalmente due pistole con tanto di cartucce, che ora saranno analizzate per capire se abbiano o meno sparato di recente. Al setaccio nuovi possibili investimenti sull'eolico, uno dei settori più cari al boss latitante. Al vaglio inoltre decine e decine di intercettazioni ambientali e telefoniche.